Ciao a tutti e a tutti e a tutti i suoi canali, sono ragazzi e questo è un nuovo video Oggi siamo qui riuniti nella casa del signore per un'altra sfida Qua roba da mangiare Perché sì, innanzitutto sto in pigiama e sto per uscire in pigiama C'è la maglietta redotti, zero credibilità Perché oggi ho deciso di sfidarmi, o meglio, sfidare i camerieri qui in Spagna per 24 ore E ho deciso, sai che c'è? Invece che fare questo video in Italia, secondo me, è molto più figo farlo in Spagna Quindi lascerò che i camerieri decidano cosa mangio per 24 ore Proprio perché oggi mangiamo fuori, tutta la giornata ho detto, sai che c'è? Io corgo la palla al barzo Ma mi raccomando, se ancora non siete iscritti a questo video, iscrivetevi e andatemi a seguire su Instagram Ma soprattutto se vi piace questo video, mettete un pollice in su e commentate E se volete che lo faccia anche in Italia Non ci perdiamo in chiacchiere perché voglio iniziare con questo video Perché sono curiosissimo di vedere quanto mi fanno spenne Che è anche quello che mi preoccupa di più E quanto mi fanno mangiare, che è quello che mi piace di più Quindi adesso niente, vado in giro per il paesino in pigiama A cercare un bar dove fare una colazione In realtà qui la colazione tipica è tipo salata Quindi la fanno con jamon serrano Con gaseosa, quindi con tutta quante queste cose spagnole Proprio tipo prosciutto crudo Una roba tipo Sprite Tortiglia di patata Cioè fanno delle cose assurde Quindi non so esattamente se troverò un posto E che cosa mi faranno mangiare in questo posto che troverò Ok raga, pare che l'ho trovato È bollissimo Vediamo che cosa succede, che già mi stanno guardando malissimo Dulce o salato? O un po' minato? Che non ti preoccupi Lo che chieras, vale? Io te lo saco Pues vale Te lo devo fuori Lo che chieras, eh? Vale, vale Hasta luego, grazie I canela Perfetto, già mi ha incantato Vale? Già sta, moltissima sgratia Chiedate a saccare questa quale cosa Ah, pues vale Vale Ok, allora mi ha portato la colazione E mi ha portato un cappuccino Che è questo qua I cappuccini o i caffè Loro li fanno proprio diversissimi Questo per loro non è un cappuccino Questo è un caffè con lecce Quindi caffè con latte Ed è un cappuccino Che loro poi solitamente ti servono con un bicchiere In vetro a parte Con del ghiaccio dentro E tu ci metti lo zucchero in quello che altro Lo giri e poi lo metti Cioè nel bicchiere con il ghiaccio E poi mi ha portato questo Che mi ha detto che è proprio tipico di qua Ah, e mi sta portando anche un Mi so che è sto modellando a casa È mi ha, buoncissimo sgratia E oltre al cappuccino E alla spumola d'arancia Mi ha portato questo qua Che è pane fritto Che mi ha detto che è tipico di qua Pane fritto Con sopra miele e cannella Guardate, perché non è fino a qua Mi sta portando pure altro Però mi so che Questo è la oscchia E ti stiamo facendo un altro plato Ah, in serio? E sto ombre Raga, mi ha portato pure tipo la roba salata Voi capite quanto questi mangiano solamente a colazione Oltre a questa roba che mi ha portato Mi ha portato anche Questo qua che se non sbaglio sono Cipolle con olio Mi ha detto Patate con salsa lioli E una piccante Quindi poi, intanto proviamo Mi bevo un po' di cappuccino Perché ho bisogno di caffeina Anche perché per affrontare questa giornata Sono sicuro che ne avrò bisogno Provo il pane fritto con miele e cannella Raga, è buonissimo Cioè, non l'ho proprio mai mangiato E mi ha detto Che mi sta anche portando un'altra roba E sta buonissimo E sta buonissimo Sì? Avete voli saccare Otro plato Paghi pure Vale Mi ha riavvisato che mi stanno per portare un altro piatto Io non so con che coraggio mangerò le cipolle di prima mattina Le dieci e mezza del mattino Qui mangiano cinque volte al giorno Perché fanno il desayuno Quindi la colazione Poi dopo la colazione fanno l'almurto Wow Vedete che questa è una bomba calorica dei grazi Sendo questo video per colazione Pensiamo proprio molto bene Sta arrivando l'altro piatto, raga No, raga Io sono morto Ma io non so se stare capendo la gravità della situazione Cioè, uovo con... No, 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 raga Cioè, sono ufficialmente terrorizzato Ho comunque finito il primo piatto Quindi passiamo al secondo E provo quello intanto Poi passo questo Che è quello più preoccupante Raga, io sono spaventatissimo Ma anche per quanto mi costerà questa cosa Cioè, se andrà così tutto avanti la giornata Io, boh, ingrasso le 12 chili E perdo tutti i soldi che non ho nella carta Ecco Questo non mi piace Ah, le patrie sono buonissime Certo, di prima mattina Io in Italia una colazione genere Non la potrei mai fare così pesante Perché mi piace, è troppo Però qui mangiano tipo alle 3 del pomeriggio 4 del pomeriggio alcuni anche Quindi si riempono un botto la mattina Perché devono arrivare fino al pranzo Mi sono pieno praticamente a neanche la metà del secondo piatto E devo ancora mangiarmi tutte quante quelle patate E secondo me anche quelle cipolle Ok, passiamo al prossimo Non penso di toccare minimamente le cipolle, raga Questa con salsa piccante È fantastico Che a me non piace il piccante Molto bene No, leggera Se papà Dara, io sono pienissimo Non ho parole Io provo a finirmi Tutta quanta questa roba E me ne manca ancora un po' Penso che dormo per 12 ore Perché già sono pienissimo Andiamo oggi pomeriggio È un centro commerciale Quindi penso che mangeremo direttamente lì Mi ha detto che c'è anche Starbucks Quindi sicuramente prenderò qualcosa di Starbucks Perché coglierò l'occasione Allora, prima di mangiare Volevo prendermi una cosa E visto che siamo in questo centro commerciale Voglio prendermi una roba da Starbucks E quindi adesso entriamo E vediamo che cosa Il cameriere della cassa Nella quale capiterò Sceglierà per me da bere Da mangiare Non lo so Che cosa mi toccherà prendere Quindi niente Entriamo e vediamo che succede Hola, buenas A me Tenis che decidir tu Lo che mi voglio tomare io Ok ragazzi Ti ho chiesto a lei Di scegliere Che cosa devo mangiare Quindi adesso voglio vedere Che cosa si inventa Che? Ti piace il caffè? Lo che chieras Senza per nada Buono, ma io voglio lo seguro Vale Io ho presentato La cassa E le ho cantato al mondo Vale E che sta molto buona Mi piace Vale Che stagione ti apetece? Decides tu Lo che sia No, io non so Quanta hambre tiene Questo è il punto Non sapete Lo che tengo per te Tienes che decidir tu per me Quello che la tipella ha scelto per me È quello là Quindi Frappuccino Cookies and Cream Ma infatti è stata carissima Perché mi ha detto Che visto che Lora che è Ha detto Non so se puoi mangiare Non puoi mangiare Quindi prendo solamente Una cosa da bere Che è quello che piace a tutti Quindi ho scelto Il Frappuccino Più famoso che c'è Vediamo un attimo Com'è Se è buono Se non è buono Io Avevo molto più paura Che mi facesse spendere Tipo il doppio Che invece non è stata carissima Eppure oggi Mi so salvarlo Dalla ricchezza Che non ho Non dico quello Che avrei preso io Avrei preso almeno la media E qualcosina da mangiare Me la sarei presa Però forse meglio di no Perché visto che non so Che cosa Sceglierà il prossimo cameriere Per me da mangiare Meglio che sia andata così Ecco Cioè è un po' più Cioè sembra proprio Biscotto tritato sopra Ma sicuramente il gusto Sarà lo stesso Voglio provare questo È la parola di Starbucks Raga Chica Inedito La nozione della Pocini Senza parlare Senza dirti Non devi andare E vale È l'unico che sappiamo di italiano E adesso non so tra quanto Andiamo a mangiare Ci vediamo per il pasto successivo Ok Altro giro Altra corsa Sono le 14 e 36 E siamo tipo in un ristorante In una specie di privi Perché siamo un botto di persone In più si è anche annuvolato Immaginate che resto In una tavolta di persone Che sta decidendo Che cosa prendere da mangiare Io non posso decidere E non so Quale sarà il mio destino Dobbiamo solamente Sperare che mi vada Veramente tanto bene Come prima Però ho dato un'occhiata al menù Che adesso vi faccio vedere E in linea generale Mi piace quasi tutto Sono delle cose che preferirei mangiare Però vabbè Questo è il menù È un menù enorme Ci sono anche delle cose tipiche di qua Il Pollo Aragonese Perché siamo in Aragon Che è tipo la regione nella quale siamo Non penso ovviamente Che possiate sentire Quello che mi dira lui Perché ci sta un casino assurdo Perché siamo diventi Con questo centro commerciale Che è enorme È uno dei più grandi d'Europa Perché io mi seguo su Instagram Perché vi l'ho fatto vedere Perché tra l'altro È una fegata pazzesca Che dentro Ci stanno tipo i laghetti C'è Le palme Con le fontane C'è una roba assurda Ragazzi è arrivata Gli altri stanno dicendo Cosa vogliono prendere Il massimo che può farmi spendere Questa troppa da mangiare Sono 12,50 euro Quindi Quanto meno Mi va a fregare fino a un certo punto A ver Pa' mi Lo che chieres tu Lo che chieres tu Si sta finta un retto Tutto lo che chieras tu Dimmi lo digas Quando venga Lo voglio a scoprire Vale Ok ragazzi Ho accettato la sfida Non ho neanche voluto sapere Che cosa è Stanno dando le bevande Ho preso una birra La terresta è pa' mi Sì Mi sono anche scoperto di dirlo Che in realtà L'unica che speravo non mi desse Fosse alcol Perché a me Una birra O il vino Non mi fanno impazzire Diciamo che Preferisco bermi Questo tipo di cose In altri tipi di circostanze Mentre mangio Preferisco bere O acqua O cuca cola Però vabbè Proviamola Molto buona Molto buona E se sei il mio Che ve lo dico Mi pare proprio buono Vedo del bacon Maionese Lattuga Però questa mario Che c'è Dario Uevo Questo è Formaggio provolone Che mas? Uovo 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 alla piastra E niente raga Io direi di provarlo Aspetta Prima le cose importanti Quanto costava Sto panino 8 euro Stiamo all'assaggio La suona dice che è pesante Che sembra molto buona E' buonissimo Regà, è troppo buono Ma è troppo difficile da mangiare Regà, a parte che è buonissimo Ci sento proprio che tutti quanti gli ingredienti sono proprio freschi Ecco che è il marco Questo è l'uovo Raga, la cottura è top della carne, questo è l'uovo Ciao, ma chi mi ammazza Fino a me sta andando proprio bene Sto sincero, me sta andando proprio bene Veramente buonissimo, super approvato Ci aggiorniamo dopo, quando finisco il panino Così se dobbiamo prendere il dolce o qualcos'altro Gli facciamo scegliere anche quelli là Ok ragazzi, siamo tornati e sono le 22.15 E stiamo andando a cena adesso Fabbè capi un attimo Insomma, così è una cosa al volo Quindi niente, adesso vedremo un attimo che cosa mi daranno per cena Ma mi, lo che tu chieras? Che sei la bevita o di comita? Lo che tu chieras? Poi smirà Che hai comito pieno a stavra, eh? Lo intero un geniale Ok ragazzi, ho chiesto Quindi vediamo se finirà questa giornata di 24 ore E me va bene come mi è andata pieno adesso Accetto per la colazione, che la fine non vi ho detto che ho speso 23 euro per la colazione Vabbè Allora ragazzi, intanto mi sarà portata la bevanda Che è una Coca-Cola che ho già dato Due sorzate, raga Sto contento per fare questa sfilata Almeno questa già non ha seccata Solamente il panino Perché qui Chica, sai, hai qualcosa che bocadillo si è hamburghese? Sì, che ci puoi comere Che potrì anche Ah sì, che non è sicuro che sia bocadillo Ok, quindi non è sicuro che sia un panino Quindi niente, vabbè Quello che sarà, vedremo E questo è il mio Mi ha detto che il cajon non mi vuole E sta gigantesco Raga, io non so se sarà a capire la grandezza Allora, raga, mi ha detto una fortuna assurda Questo è petto di pollo fritto con bacon, cheddar, insalata Che ma? E maionese, avesse sta? E maionese, no raga, vivo Passiamo all'assaggio E sta buonissimo È troppo buono Il discorso è che qua Sono molto più tipi da panini Cosa di questo genere Più che da altri piatti Al massimo non la paella O tipo il riso condito con le verdure O con pesce, eccetera, eccetera Cioè, vi giuro che se venite in Spagna Costano poco Sono enormi Riempono tanto e Avete visto che cosa ci mettono dentro Spero che non l'avete anche scusato Che sono No E io penso Fino ad ora Di tutte quante le cose che ho fatto mangiando Questo sia stato il video Che mi è andato meglio Contentissimo Dai Molto bene ragazzi Vi parlo dalla mia casa a Roma Perché sono tornato a Roma E mi sono accorto che l'ultima clip Non si sa proprio che fine abbia fatto Tipo le mie gioie Quindi sono qui per salutarvi Per ringraziare di aver visto questo video Mi raccomando Se ancora non siete iscritti Iscrivetevi Mettetevi un pollice in su E fatemi sapere qui sotto nei commenti Qual è stato secondo voi Il pasto migliore che ho fatto In queste 24 ore E se vi piacerebbe Vedere questo video In versione italiana Quindi con i ristoranti Che abbiamo qui in Italia Io vi saluto Vi mando un grandissimo bacio E niente Ciao Ciao